Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento questo Leica Cosmo 212, un compatto letto matrimoniale nautico in fondo. Cliccate sulla vostra destra in alto, si aprirà la nostra scheda del sito dove ci sono tutte le dimensioni, chilometri, optional compresi. Poi iscrivetevi al canale YouTube e cliccate la campanellina per essere sempre aggiornati. Allora, qua dietro in fondo il garage, questo è un letto fisso, quindi il garage è fisso e qui sotto le dimensioni larghezza e altezza. Andiamo al suo interno, la bella porta d'accesso, porta immondizie, la finestra, la zanzarera, un'accogliente zona giorno. Qua il tavolo che si muove, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, che si sta anche in sette a fare due chiacchiere. Come vedete molto luminoso, una bella finestra superiore apribile e la finestra laterale. Poi, questi piccoli pensili sotto il letto, contenitori e prese nella parte laterale. Il blocco cucina, piano d'appoggio che si sposta e può essere anche fare da coprilavello, un bel piano qua, tre fuochi. Quindi, la finestra, il pensile qua sopra, un piccolo contenitore di cose, cassetto, altro cassetto e altro cassetto. Oltre ad avere questo bel contenitore. Vedete, la finitura bianca è veramente ben costruito e anche molto elegante. Poi, la parte frigorifero con il suo congelatore e cestello portabottiglie. E sotto, un altro cestello portacose. La parte posteriore ha questo rialzo e anche questo bel contenitore. Poi, la porta che divide la zona giorno alla zona notte servizi. Sotto il letto ha questo grande contenitore, compreso il cebatoio di potabile. Poi, il letto va indietro per poter muoversi meglio in questa zona, oppure fare in questo modo e diventare un letto grande. Qua, pensili, a destra e a sinistra e qua l'armadio di sinistra e un armadio più grande di destra. Due belle finestre e l'oblò. La doccia, ci leviamo la pedana che serve a camminarci quando non serve la doccia e poi, eccola qua. Come potete vedere, è una doccia molto comoda, compreso ha l'oblò e la stecca per appendi abiti per mettere le cose bagnate. La parte toilette, qui c'ha un bel armadio. Il water, come vedete, ci sto bene. Anche, se volete un po' di privacy, con questo immaginatevi la chiusura della porta qui, quindi è fattibile. E poi c'ha sia la finestra che l'oblò. Il lavandino è molto largo, profondo. Guardate che mi ci lavo bene, poi anche per quanto riguarda lo specchio è funzionale e comodo. Il letto è un bel letto matrimoniale. Questo qui è un camper da quattro, quindi due sul letto vasculante e due sulla parte posteriore. Oppure uno comodissimo qui sopra e uno comodissimo dietro. Qua c'è la protezione sia nella parte posteriore che nella parte anteriore per i bambini. Quindi un camper compatto, letto matrimoniale centrale posteriore, quattro posti. Chiamateci, venitelo a vedere perché è un camper ben fatto e ben tenuto. Scambiate con noi le opinioni per comprendere meglio se il camper è adatto alla vostra famiglia e alle vostre vacanze. Come sempre, agli ottimi prezzi e servizi caravambacci. Ciao!